Ciao a tutti vediamo come mettere il pc in stand by su windows 10 è molto facile ci basta andare qua in basso a sinistra invece start premete dopodiché spostate il cursore qua sopra dove c'è arresta premete e fate sospendi non lo faccio perché sto registrando però una volta che fate sospendi andrà in stand by e per farlo ripartire in realtà vi basta premere su invio, barra spaziatrice o i tasti del mouse a posto e automaticamente il computer si riaccenderà ecco qua se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento ciao ciao